La scuola Backstage è una scuola che nasce dalla volontà di una coreografa televisiva, ricordiamo non è la Rai, Macao, Sarabanda e decine di altre trasmissioni, che ad un certo punto della sua vita professionale ha deciso di voler trasferire tutto il suo sapere alle giovani neve della danza. Al suo fianco altri professionisti che l'hanno coadiuvata nella conduzione, Roberto Parlara, direttore con Marina Cinti e il coreografo del brano che vedremo questa sera, Lello Busiello. Con Pinocchio il palcoscenico è per la scuola Backstage. Dici cosa vuoi, ci penseremo noi, gatto e volpe SDA. Anni di esperienza, competenza e serietà. Noi preghiamo tutti i santi e parabutti senza limite d'età, brutti, furti, scassi e mille più specialità. Noi rubiamo, noi braviamo, con l'esturezza e praticità. Noi fiamo, raccidiamo, sei soldi da farti pregare, rivolgiti a noi. Siamo ladri per mestiere, ma con classe fantasia e fantasia e talvolta un conto di poesia. Non teniamo concorrenza per la nostra abilità, oltre più ricercati qui in città. Siamo due marchi di piatto e colpette SDA. sballo, prova e vedrai che sballo, quel che mi gira a pallo, senza nessun controllo. sballo, senza cravate al collo, fuori di testa e pello, basta che sia da sballo. l'educazione, la precisione, sono per la gente snob. Batti il zamburo e scrivi sul muro, vai della scuola a un tavolo. Mangia come le cigne, balla come un ma, dai, 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 fuori su tutte le unie. Pensa che sballo, qui non si cresce mai, non si cresce mai. sballo, prova e vedrai che sballo, quel che mi gira a pallo, basta che sia da sballo. Eccolo! Eccolo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.